Gran finale, finale e finalina anzi, tutto questa sera. A Polpenazza è arrivata l'ora della serata finale, di decidere la regina della 33esima edizione e le sue damigelle. Appuntamento dalle 21.30 con il campo. Si affronteranno la Petrol, la BM Carrozzeria e la LT Paine Arredamenti, le due scornate, le due deluse, nelle semifinali. Si giocheranno il terzo e quarto posto, preparando così il terreno alle due finaliste. Alle 22.10 fischio d'inizio per il resto del Mauri contro il Barriess Bedizzole, ovvero quella che potremmo definire una finale a sorpresa. Il resto del Mauri è la squadra campione uscente, certo, ma il Barriess è la squadra a rivelazione, l'outsider che zitta zitta è arrivata a sognare il trionfo. La serata finale del torneo di Polpenazze verrà seguita in diretta da Territutto, puntata conclusiva per parole di calcio estate. Si parlerà di Brescia, ma con le telecamere puntate sul campo centrale. Appuntamento a partire dalle 21.00.